Anticipazioni uomini e donne, Armando lascia a studio, Silvio abbandona il programma. Le nuove anticipazioni di uomini e donne rivelano che ci sono stati vari colpi di scena nel corso della registrazione di questa domenica 26 marzo. Il protagonista assoluto dello show è stato Armando che, ancora una volta, ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche in studio. Tanto da portare Tina a dubitare di lui. Spazio anche alle vicende di Gemma che, dopo aver portato avanti la frequentazione con Silvio, è arrivata l'epilogo finale di questa nuova storia. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di uomini e donne che saranno in onda tra fine marzo e aprile su Canale 5. Rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando, il quale si ritroverà protagonista di una discussione con Silvio. Al punto da decidere di lasciare lo studio. Armando non gradirà alcune parole del Cavaliere e, a quel punto, per evitare una discussione in studio deciderà di uscire dalla trasmissione. La reazione di Gianni non sarà delle migliori, l'opinionista del talk show si scaglierà contro questo modo di fare del Cavaliere napoletano. Tacciandolo di essere stato maleducato. Tuttavia, Maria De Filippi spezzerà una lancia in difesa del Cavaliere ammettendo che quando si vengono a creare queste situazioni che potrebbero degenerare. Preferisce di gran lunga che esca per qualche minuto dallo studio. Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni di uomini e donne che arrivano dalla registrazione di questa domenica pomeriggio. Raccontano che c'è stato spazio anche per la durissima presa di posizione di Tina. L'opinionista ha ammesso di avere dei dubbi sul conto di Armando, al punto da sostenere che il Cavaliere avrebbe una donna fuori dallo studio. Motivo per il quale non concluderebbe mai nulla di serio all'interno della trasmissione di Canale 5. Insomma, una registrazione decisamente travagliata per il Cavaliere che, in questo modo, rischia di vedere compromessa la sua credibilità agli occhi della redazione e della stessa conduttrice. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che per Gemma c'è stato spazio per l'addio finale con Silvio. I due hanno scelto di chiudere la loro relazione che andava avanti da qualche settimana ma, nonostante tutto, sono rimasti in buoni rapporti e si sono salutati pacificamente. Silvio, alla fine, ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi uscire di scena dal cast del Tronover. Aimei, 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 n-au avut haba. Grazie a tutti.